I Panettone Awards di IRCA sono importanti per noi perché noi vogliamo ovviamente supportare i campioni della nostra categoria nel mondo più generale e veniamo proprio dalla pasticceria. Per noi è importante vedere come i nostri prodotti vengono applicati ma è anche importante per noi di supportare professionisti che magari non hanno oggi la visibilità che vengono a vedere e che vengono. Quindi siamo molto orgogliosi di poter vedere i nostri prodotti in azione, in applicazione e vedere appunto dei chef non conosciuti ancora e supportare un po' sul loro percorso.